A sette anni e sei mesi dal terremoto scende il sipario oggi sulla max inchiesta sui crolli avviata dalla procura della Repubblica dell'Aquila dopo il terremoto e partita con l'allora procuratore Alfredo Rossini. Il termine che scade, come sapete, è quello dell'estinzione per prescrizione dei reati, in particolare quelli di omicidio, disastro e lesioni, di volta in volta contestati tutti o solo alcuni ai presunti irresponsabili, fissato appunto dalla legge a sette anni e mezzo. 200 i filoni iniziali, 19 dei quali sono approdati in aula. A non concludersi, per la prescrizione saranno soltanto due processi, dunque. Pochi giorni fa ricorderete la sentenza per il processo satellite che ha riguardato l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, sentenza che lo ha visto assolto, ma non ancora definitiva, in quanto le motivazioni saranno depositate entro tre mesi e dunque in corte d'appello ci si potrebbe ancora appellare. I due soli filoni che termineranno con la prescrizione sono quelli per il crollo in via d'annunzio e per il crollo in via Storzo, dove c'è un unico imputato. Su 19 filoni quindi le sentenze definitive sono state 17. Di questi, i casi giunti fino al giudizio di Cassazione sono stati sei. Le tre condanne principali sono quelle per i crolli del convitto nazionale, la casa dello studente e la facoltà di ingegneria, mentre tra le tre assoluzioni c'è quella per la commissione Grandi Rischi, senza dimenticare quelle per la via Generale Rossi e via 20 Settembre al numero civico 123. Sono tre i processi che si sono conclusi in corte d'appello, con assoluzioni per i crolli in via 20 Settembre 79, via Le Persichetti e una condanna minore invece per via Miloni a Pettino. A diventare definitive già in primo grado sono state due sentenze di assoluzione in cui l'accusa stessa ha chiesto di scagionare gli imputati nei casi dell'ospedale San Salvatore e del palazzo in via Roma al civico 18. Inoltre ci sono anche sei procedimenti legati a crolli con molte vittime mai approdati al dibattimento per decesso degli indagati o per loro impossibilità di stare in giudizio e ci riferiamo a via Campodifossa, via Poggio Santa Maria, via Cola della Matrice, via Corridoni, via Gualtieri Docre e hotel Duca degli Abruzzi.